Il Campobasso ha ripreso ieri i lavori in vista della terz'ultima trasferta stagionale, quella pericolosa di Fano, dove i Molisani, Sivilla e Borrelli stanno mandando avanti un sogno chiamato Lega Pro. A dire il vero è un sogno che, realisticamente, sembra appartenere di più alla maceratese in vantaggio di 4 punti a 5 giornate dalla fine. Potrebbe sembrare un distacco rassicurante e controllabile, tenuto conto che tra le partite residue, l'unico ostacolo degno di tale nome per l'attuale capolista è la San Benedettese al Riviera delle Palme alla quindicesima. Tornando al Campobasso, diciamo che la seduta di ieri è stata leggera con Nicolai e Lazzarini che hanno preso parte ai lavori, ma da qui a ritenerli disponibili per il Mancini di Fano ce ne passa. Nel capoluogo si parla di lotta per i playoff di quarto posto, ma uno sguardo al futuro andrebbe già dato e siamo sicuri che la società già sta lavorando per dare un'impronta decisa alla prossima stagione, premesso doverosamente che il campionato che si sta conducendo rispecchia in maniera fedele quanto annunciato nella scorsa estate, è bene che il pensiero vada a ciò che può essere nella prossima Serie D. Oppure, ci domandiamo, il Campobasso potrebbe anche pensare di fare domanda di ripescaggio in Lega Pro? Il nostro interrogativo è corroborato dal fatto che molte società dell'attuale Serie C stanno avendo una vita societaria abbastanza travaiata, vedi Barletta e Savoia nel girone C, Monza nel girone A, ma anche Brescia e Varese, il cui destino sportivo in Serie B è appeso a un filo, dunque da retrocesse potrebbero liberare due posti proprio nella vecchia Serie C. Alla resa dei conti la credenziale più richiesta per ottenere un ripescaggio in Lega Pro, al di là del piazzamento sportivo, è certamente quella finanziaria annessa a una storia sportiva della città. Non siamo noi, ovviamente, quelli chiamati a dare una risposta a questo interrogativo che abbiamo lanciato, possiamo solo ribadire che il campionato del Campobasso va certamente finito nella griglia dei play-off, ma che contestualmente la società dovrebbe iniziare a pensare a cosa fare da grande e siamo sicuri lo stia facendo. A Fano si giocherà contro una squadra capace di inanellare 18 risultati utili consecutivi, fatti da 13 vittorie e 5 pareggi, un totale di 44 punti, appunto nelle ultime 18, meglio pure della maceratese che di punti ne ha fatti 41 nello stesso arco temporale. L'ultima sconfitta del Fano risale al 7 novembre scorso, quando la Civitanovese si impose al Mancini per due reti a uno. Sulla carta è una partita terribile per il Campobasso, probabilmente andare da parte rosso-blu con la testa sgombra, la voglia di rischiare, ma soprattutto con l'atteggiamento di chi non ha nulla da perdere, potrebbe essere già un buon punto di partenza per la squadra di Vullo.